... in questa fase iniziale per la riandice che da questa volta sono partiti contenti vengono ammoliti i concorrenti 227 numero 68 battuto Lorenzo stiamo intanto approssimando i tre giri per una conclusione il Cerasiare questo libro provato da due concorrenti che stanno 699 o più precisamente il concorrente numero 93 numero 2 261 il progetto al vento questo è il progetto che sta per essere riassorbito dalla parte più importante della finale perché come abbiamo visto siamo a fare una nuova inizialmente siamo ad oggi inizialmente il giro termine si è ritornati in una grande situazione niente al punito giro in un momento nel tropomeno numero 50 numero 60 muove 699 12 2022 regaerli sabo inizialmente per questa 3 linea tra stetica l'ultimo giro per avere la scelta della partita il contatto cima insieme ancora sufficientemente contatto c'è grande diversità di questa finale in modo specifico questo ultimo corso il nostro ultimo corso il nostro giro tra l'ultima curva il giro in perfetta l'ultima curva questa nuova in fronte c'è il primo che è crescita in una volta finale che stiamo avendo vissi da voi dopo l'arrivo c'è via la conclusione anche questa la mia prova non ancora oltima ci sono incontri con il corso ma vediamo naturalmente che tutti gli appunti chiusano la loro prova grazie